C'è da migliorare rispetto alla gara interna con Novara, da salvare c'è innanzitutto il risultato e anche l'atteggiamento tattico dell'ultima frazione di gioco che ci ha permesso di portare a casa tre punti insperati fino all'ottantasettesimo della partita. Da questa esperienza bisogna trarre il massimo e senza serbarre ancora altrui cercare di utilizzare chi è in forma sin dal primo minuto. Del resto Iuri ci è stato abbastanza chiaro, le gerarchie della squadra possono sempre cambiare e nessuno deve sentirsi titolare. Fermo restando, almeno per quanto ci concerne, che per alcuni giocatori, sia per esperienza che per una questione tattica, il posto è blindato. Premesso questo, della gara farà sicuramente parte Martella che oltre a ricoprire bene il suo ruolo si è riscoperto anche uomo assist. Bruno Martella, due giorni dalla sfida col Perugia, cosa dobbiamo migliorare rispetto alla gara con Novara? Abbiamo vinto però si è sofferto molto. Sì, dobbiamo migliorare prima di tutto in fase difensiva perché abbiamo avuto tanti buchi nel primo e soprattutto nel secondo tempo e dobbiamo migliorare su quello. Poi siamo stati grintosi e determinati a raggiungere la vittoria a fine partita. Certamente, il Crotone ha avuto carattere ed è riuscito a ribaltare la partita. Come avete interpretato questo segno? L'abbiamo interpretato benissimo perché io ho visto a mezzo metro Gonzales che sbagliava a porta vuota e dentro me ho pensato che questa partita la vinciamo e alla fine è andata così. Al di là del modulo, perché abbiamo visto che Juric a tratti ha schierato una difesa a quattro, l'atteggiamento in campo deve essere migliorato da un certo punto di vista. È un problema di attenzione secondo te? Non è un problema di attenzione, è un problema di misure secondo me perché Clayton e Ferrari erano abituati a giocare a quattro, ora siamo divisi a tre quindi è disposto un pochino diversamente dall'anno scorso. Bisogna trovare solamente le misure, dobbiamo stare solamente più attenti come ha detto pure il mister a me personalmente, pure in fase difensiva. Quindi è l'inizio, sicuramente miglioreremo al 100% e ne sono consapevole. Si va a Perugia, manca Fabinho quasi sicuramente, probabilmente mancherà anche Ardemagni, però ci si aspetta un Perugia aggressivo, comunque giocano in casa, hanno una buona squadra? Sì, hanno un buon organico, ma se non giocare a Fabinho non giocherà qualcun altro che è di categoria sicuramente, perché il Perugia ha 22 giocatori di categoria, non ha nessuna riserva e nessun dolare, quindi sarà una battaglia davvero. Però la mentalità di Mister Iudice è comunque quella di andare a giocare la partita, ovviamente di non chiudersi nella metà campo, ma tentare di giocare, giusto? Sì, come no, pure a Cagliari ce l'aveva detto, quindi Cagliari secondo me è la squadra più forte del campionato, ce l'aveva detto anche a Cagliari giocare contro contro loro in questo modo qua, quindi andremo in ogni campo, sia in casa, sia in trasferta a giocare, ce l'ha visto aperto. Per quanto riguarda il tuo ruolo, ti trovi meglio nel centrocampo a quattro da esterno a sinistro oppure nel ruolo di terzino nella difesa a quattro? Dove mi fa giocare il Mister Iudice mi trovo bene, basta che stai sulla fascia. Grazie, in bocca al lupo. Il grande rugby approda al parco della biodiversità di Catanzaro in occasione dei campionati mondiali. L'iniziativa di proiettare le partite dell'ottava edizione del campionato mondiale maschile di rugby e del clan Catanzaro Rugby e del Catanzaro Rugby Union. Con il patrocinio dell'amministrazione provinciale di Catanzaro, lo scopo naturalmente è quello di incentivare l'attività reggbistica. Sicuramente, c'è questo dubbio obiettivo che vorremmo cercare di raggiungere. Innanzitutto, promulgare l'attività reggbistica nelle nuove generazioni, perché è uno sport di cui negli ultimi anni se ne sta parlando un pochino di più, quindi siamo contenti per questo. E in più, crediamo molto nei valori che il rugby, soprattutto, può portare nelle fasce deboli, perché abbiamo intenzione di portare il rugby anche in varie attività socioassistenziali. E nello stesso tempo, promulgare tutti i valori che questo sport riesce a trasmettere. Dunque, il primo delle serate prevedono le quattro partite della Nazionale Italiana di Rugby, proiettate al parco. E prima delle partite, si comincia il 19 alle 18, con Italia-Francia di rugby. E prima della partita, si faranno delle dimostrazioni con le squadre signores sul gioco del rugby. E si farà reclutamento, per quanto riguarda i bambini, che si vogliono avvicinare a questo sport. Dopo la riuscitissima edizione di settembre al parco, il parco continua ad essere un teatro di spettacoli e di animazione. Continuiamo a mettere a disposizione il parco delle associazioni, in maniera particolare quelli che coinvolgono i giovani, i ragazzi. E oggi non potevamo, diciamo, non dire che sì all'associazione che in qualche modo si impegna a valorizzare e incentivare il rugby. Una disciplina che sta facendo innamorare tantissimi ragazzi. C'è un interesse molto ampio, molto vasto, per cui la provincia mette a disposizione il parco anche per questa disciplina sportiva.